Buonasera a tutti da Devon stasera siamo su GTA diciamo che sono mancato un po' di tempo faccio un po' di lavoro, la sala pesi, metto lì a fare più video, ora facciamo un po' di tempo e provo a fare qualche video in via facciamo un po' di olio e anche la gente dorme e che vuole un po' di niente ci sono un po' di sangra buona dimissima come un'ottante e se prendiamo la città e se prendiamo la città e se prendiamo la città E' un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Yeah. Grazie a tutti. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti.